Non si dice Mamma spegni il wifi prima che devo lanciare pure le forbici che c'è sul tavolo Ti invito Una partita possiamo fare? Dai willy dai 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 non ti scoraggiare willy Ti ho chiesto perdono uno spettacolo Buongiorno signor spettacolo Ma no bella Ciao bella Ciao bella io ti conosco tu fumi cannella Se mi conosci nella vita reale io penso che è Matteo o Cristian Porco Porco Il cavo lan Oh mannaggia il cavo Non lo so ma il cavo è religioso? Il prete c'ha un cavo su per il sedere? Ok Ok Vedo un po' e no Blitz Subito Proprio così ti dico Mario player pro Si pro anche mia madre è pro Lascialo a willy Qua No Ah si si Ah Si si Perchè hanno tolto la Gagadash Io pure ce l'ho così Io pure ce l'ho così Crediti E quello la Ti dà pure 10 pacchetti out break A me era scaduto e mi dà 10 pacchetti out break Bandit No 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 A me mi è nata di 11 perchè uno normale più 10 che ho preso col codice Tanto non c'è nessuno più forte di willy con vigile inutile pure banditela No Aggiungete il contenitore di bio rischi di... No vado a spawn kill Mi diverto dai No Cambio caricatore Libero libero Inghiamo dalla porta Qui Qui Prendete il contenitore di bio rischio Ah io mi sono un obiettivo Attività nemica neutralizzate la minaccia Lasciate perdere il contenitore L'ho flashato e mi ha ammazzato Eh ho capito che si è vero Perchè non c'avevo lo scudo? Eh sì sì perchè io pensavo pusha Perchè io ero andato lì e c'era l'obiettivo Io pensavo che avevi detto... che avevi detto pusha per... No c'è zero di vita Stai sbagliato con me Stai sbagliato con me Stai sbagliato con me No Eh sì è Mario È Mario Si chiama Mario Ovvio che è italiano no? Cioè è ovvio che è italiano qui Non sto a vedere Ok vai 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 Eh ma io non ce l'ho Io non ce l'ho Io c'ho Caveira, Valkyrie e Kaid Dobbiamo proteggere il contenitore Si lo sto a vedere Italiano, cerco persone per platinare i giochi Italiano qui Ancora 10 secondi Ancora 5 secondi Si Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi Ok Occhio al fuoco alleati ammoglata Dava ben chi va a segredi Parassita posizionato Eccoli stanno qua sotto No no mi lasciate stai faccio un Banzai Tu mettite qua io Vai cercare Caricatore Aspetta c'è Asce Vabbè me l'hanno fregata Arriva 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 No 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 l'ho ammazzata Me l'hanno fregata era Asce Ho messo a terra Sto ricaricando Sto ricaricando Si ha meravviato Ma non fa niente Ultimo attaccante rimasto in vita Squadra Squadra d'attacco eliminata Si è completata Squadra d'attacco eliminata Si è completata Che vado Che vado Ui quando stai in attacco Tu Clicchi forte casuale E vai subito sul lion Te lo prendi Dopo poi vieni dietro Vai tutto tranquillo Proprio sbrigata più al lion Perchè questo io A me mi stanno sanguino agli occhi Ti giuro Ti giuro T'ho passato di mia madre E stanno lacrime agli occhi Uno perchè mi mancano la nonna E due perchè questa fa piaccare No lo so Grazie Ok Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Che stai tu? Maverica vieni Arrabbia Sì Arrabbia Tranquillo Ricarico Contaglio grafia Ricarica Ricarica Ah qua da qua ok ottenete il contenitore copritemi ricarico guarda un po' chi è l'ultimo l'unico che ne ha fatto 0 kill forse dovemmo scrivere noi nelle informazioni personali qui dovemmo scrivere noi vai 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 cavaila 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 tu sei scarso Will è più forte un agare metto pure uno sulle scale corro come un pollo si aspetta da qui esce fuori mi sape si io ho gherato i droni eh ho gherato i droni eh qua intanto vado col drone ok ingresso barricato se mi copri chi gira un po' col drone vengo vengo ok non è così alto cri eh oui tira la granada d'impatto no la granada d'impatto vieni qua da sopra zitto ecco qua qua uno speneternato non ci sono altre vie ammazzate ultimo nemico rimasto fk non ci sono non ci sono non ci sono bravo posso prendere un altro posto dell'ion o sempre blitz no perché devo vincere sicuro è troppo davvero scopo mi dai vena pure mi padre cioè addirittura parco porco non gli faccio un gol lo sai che ha detto che a mio padre ogni colla che faccio è 20 euro di ricarica oh my god sono carico che buono eh però lui le fa da 20 vabbè la prima partita è vinta su fortezza comunque mettiamo mettiamo ebbè io sono primo buon tonno amedeo preziosi per platinare i giochi ho appena visto che mi stavo a mettere a vomitare oddio mamma è un piede seduto che cambia bronzo 2 mi finisco questa partita e faccio a bronzo 1 ma se di tanto mi metto ormai ma ricordate mi devi fare sempre i panini ah ma quindi mi ha dato il pacchetto ah e quando cazzo me lo dici gioco aspetta mi ha dato il pacchetto sto prendendo adesso però sicuramente come sempre farà schifo eccola singolare prezza marina per acido obbligata si la cercavo che bella ma dai non mi fa buono non mi fa buono non mi fa buono non mi fa buono prego non fare l'infame confine io ringrazio gesù ringrazio i miei genitori ringrazio mia mamma grazie mamma ringrazio tutti i miei amici tutti quelli che conosco per avermi fatto nascere e farmi giocare sul confine dimmi ormai scalicchio io voglio vedere questo di che nazionalità sei italiano ti faccio 1v1 proprio così 1v1 un abbo è italiano è italiano mamme ah drone di sca drone stupido siccome tu hai studiato italiano cioè vabbè guardato questo col drone sto drone è neanche con le hack lo vedi siamo a 5 secondi siamo a 5 secondi no ha perso il segnale il drone ancora 5 secondi ti seguo ahah che cazzo chiudono le porte un goloide non arriva i figli di papà eh sono arrivati i figli di papà eh editi montato ti ha peccato pure porta contrappola ma cap canna se la mettevi là non faceva male comunque tu coprirai io copro la finestra eh porco 2 si è spento il telefono perchè ho fatto cascare imboscata pronta state alla larga cazzo sta dietro delle bacche ma se io provo a uscire che dici lo faccio qui lo faccio lo sapevo io il nemico ti scoprirà se rimane in questa zona no ma non ho messo la crema era una diversa non so se non c'era nessuno però quando è uscito sei in una zona controllata dal nemico eh sai io ho una storia ehm guardami il drone hackerato eh guarda quel drone davanti a te guarda no 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 girati a sinistra vabbè 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 gioca gioca solo guarda direttamente i droni umì il drone è mio sta rampinato comunque se rimani in questa zona scoprirà è capitato è capitato è capitato sta entrando da sotto sei in una zona controllata dal nemico lasciala subito stanno da cap can comunque scalicchio ehm no infatti adesso l'hanno messa ce l'hanno messa madonna scalicchio l'operatore alleato rimasto l'operatore alleato rimasto cercando ulteriori accessi al contenitore ripetitati di prendere il contenitore di più rischio squadra d'attacco eliminata missione completata ssssss dio 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 ma cosa ho fatto io di bene oggi a parte per stemmiare cioè non lo so mangiare è giocare è giocare e mangiare c'è lion ok capitato chi eh non c'è gusto vabbè brutto beh io comunque vedo come si chiama altro scalicchio cioè che livello è scali c'è ottimo lavoro contenitore di più rischio localizzato c'è uno uno così forte ma c'è scritto scalicchio ok ho letto scalicchio oh viemorato drone mhm ciao jestu vai uscite bastardi uscite chi esce per spararmi ah lì no qui eh errore mi dice no no l'hai capito dov'è? è dietro lo scudo dov'è sempre provo a fare one tap cazzo hai sparato l'ho sentito no non muore quindi mi sta a dire che l'arma di slaggia fu schifo nessuno che vada su porto a montagne no se sregge se lo fa io giuro se scaricchio se lo fai io giuro che do un premio cambio caricatore secondo me mi ha dato errore perchè ha detto no fidate non lo vede attività nemica tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia non è pronto arrivo no è niente scalicchio è così scarso che non me lo fa trovare chi? nooo vabbè andiamo sul 3-0 vabbè senza divertimento mamma quanto costa 5 funerali no sai no sai 3-2-2-io e si fa la scorpacciapa la scorpacciata dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio oh grana che erano il nemico ha individuato il contenitore di biorischio portati alla larga passi da te timbo scatabonda state alla larga siamo pronti ad accogliati siamo pronti ad accogliati siamo a 10 secondi e io sotto volevo provare a far spon... vabbè io voglio provare a far spon kill a tutti i costi blackbird lo cato io ho rotto lo scudo qui potrei provare a fare una cosa però non so sicuro magari andà qua e tirà il C4 no l'ho aiutato l'ho aiutato l'ho aiutato gli ha letto pure la scuda se non mi pare si si il nemico ti scoprirà se è rimasto in una zona oh l'hai visto? un operatore alleato rimasto nooo cazzo scalicchio! scalicchio! scari... scherzare difensore fallita difensori neutralizzati fama come sempre madonna è saltato saluto dai qui però che brutto giocare così madonna mamma ma quanto costano i 5 funerali? 10.000 euro eh vabbè riammucchiate un po' i sordi che ci stanno 5 avversari che muoiono ok? si ecco mamma sta finendo questa partita erup oi contenitore di biorizio lo sai che vuol dire? vai! si willy busciamo busciamo come cani ben fatto contenitore di biorizio trovato no no meglio beh basta vinciamo oh c'hanno un castello eh mira mi spieghi mira che cazzo sta rompendo ma sai mi servirebbe una spiegazione perché non capisco oh madonna si è per me è per me è per colpa mia oh brandita stupida si perché bandit pure cazzo non hai like da bandit stupidi ah ok e aspetta però dobbiamo andare che ho paura che muori no no willy willy ferma ferma gli metto solo paura no basta dove cazzo no cazzo sei qui non ci sei sei qui non ci sei ah oh c4 occhio dalle scale dalle scale vengono dalle scale vengono qui dalle scale a destra attività nemica tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia occhio al c4 ma non lo senti quando tira fuori il c4 tu si va bene va bene va bene cioè io do io no ecco la ecco la cosa no io trovo un inferimento spero il wallbang non me lo fa perché il wallbang fa 0,0 questo spara il wallbang e 4 colpi e lo ammazza cioè lo so io che vero qui no 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 vabbè no si devo andare pesanti qui devo aprire quella cosa nel posteriore il direct willy però io non ce l'ho tutti sti soldi eh cioè ma car di fossi ricco eh e te fai tutti i furtim per me sono due soldi eh però non so né ricco né povero eh mangiando il caffè un pazzoglia metto uno qua dove qua rinforzo il muro levati rimangono dieci secondi ah io che ero un drone neanche non è che lo so due vai dronate che vi metto il parassita no c'è Twitch e mi vuole rompere il drone mi ha rotto il drone aspetta provo a prendere il drone e ti c'è se riesco a trovare il drone di Twitch o che abbiamo vinto sappia il drone qui è il drone non ti c'è non Chuuu! T'ai dratti-moi! una zona controllata dal nemico lasciala subito tita un attimo aspetta è stamminato sopra sita un attimo si ho capito ma dove sono se riesce non è morta di più un operatore alleato rimasto andavo andavo restano 5 secondi una terra perché ma non è il gioco non è il gioco non è il gioco perché perché sto coglione si è dovuto andare a fare la kill sai che a terra lasciala là no che dici e pensi a quell'altra che è viva perché lui ne pensa che fa più danno quella morte che è viva capito perché quella morte è fortissima è strapigliante e quindi perché scaliccio non me lo scelgo no 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 provate il contenitore di biorizio ma va il win sono scoppiato alla destra che è duro ottimo lavoro contenitore di biorizio localizzato qui tanto è vigile quale è mute no quindi hita vigil eh mute ah no c'è pure i vigili hitalo ancora dieci secondi cinque secondi all'inserimento mute adesso altamente gemmero raggiungetelo e eh ui vabbè io sto la finestrella no no non espeta mi toli solo oh ma qua non è rinforzato ah ecco perché non è rinforzato perché non sta qua l'obiettivo mi pareva strano troia siamo innescata come si vabbè non era è di certo pure scalicchio cazzo sai che ti viene da là uh mira no quando spari spari senza mirare scalicchio scalicchio nuovo caricatore rimane un nemico fiamma pronta nuovo caricatore mi sto giocando male stamattina quando quando succedono queste cose un po' ne risenti su tutto tornate a occuparvi del contenitore dopo averne neutralizzato la minaccia a terra difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti ma tanto posso mangiare qui la pizza eh ma 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 io sto da solo a casa allora mi metto la pizza la pizza qua trovate il contenitore di biorischio in che senso tutti ben fatto il contenitore di biorischio trovate 10 secondi 10 secondi all'inserimento inserimento tra 5 secondi raggiungete il contenitore di biorischio difendetelo fallo in prepare 30 secondi all'inserimento si Stanno là, stanno là Hanno spaccato Hanno spaccato lì G4, scappa Tornate a occuparvi del contenitore Dopo aver neutralizzato la minanza No, è possibile, non ha caro L'ultimo nemico rimasto Attività nemica Tornate a occuparvi del contenitore Dopo aver neutralizzato la minaccia Difensori eliminati Missione d'attacco riuscita Pronti, va a casa questa mangiadice Questa via, maestro Tu hai usato a dire Basta che vinciamo Ok Hai voluto due Io non ti ho detto niente Ah, cazzo Difendete la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Vale Rapporto il muro Uno spettatore e un commento De Ok State alla larga Barricata pronta c'è uno qua si eccolo l'hanno pure spattato c'è ancora c'è ancora c'è ancora vedo 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 no ma stava qua sotto no non c'è più oh c'è uno qua fuori si sta lì alla finestra poi basta c'è solo uno lì eccolo sta lì sta lì non lo vedo più si già ancora sta lì dai 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 bueno si io abbranzo uno cento e ventanto e bronzo uno io sono un amico con altra vado al argento 4 non lo vedo ma non c'è l'olio madò che schifo ma non è arrivato a 7700 ma non è arrivato a 7700 ma non è arrivato a 7700 io voglio vedere con blitz quanti kill c'ho 56 uccisioni da quando l'ho preso io col twitch 301 uccisioni vabbè da notare che tu usi più tempo twitch e che usi più ah ma non ha avviato non c'è non c'è non c'è non c'è perché No, non ho scorreggiato, tranquilla. Oregon, secondo me, madonna. Io ti giuro, sono la madonna che non l'ho vista. Non ho fatto, non ho fatto, Oregon, ho detto Oregon. Allora, ti giuro, io stavo vedendo, poi lo vedi dalla live. Eh, lo so, poi lo vedete dalla live, ti giuro, su Gesù Cristo. Che io stavo a guardare... Che io stavo a guardare la cosa, ho detto, secondo me è Oregon, boom, è uscito da Oregon. Un po' l'ho intravista, però io non sapevo ancora che era Oregon. Cioè, ho detto Oregon, e poi l'ho intravista, ho detto gone, è uscito. Poi vedi dalla live, se non ci credi. Difendete la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di Piorizio. No. Disponetivo innescato, vedete d'occhio la porta. Io stavo qua, e tu svelta da 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 da. Uuu, dronagherato. Sì, è uscito a guardare il contenitore di Piorizio. Riguare le gemme. Editi attivo, state alla larga. No. Ah, sì, sì, guide, quello che ho fatto la cazzata. Mancano dieci secondi. Siamo a cinque secondi. Vedo il muro in corso. Proteggete il contenitore di Piorizio a tutti i costi. Poi mi dicono nel video che io sono volgare. Uno in video. Oh, io mi disiscrivo perché tu sei troppo volgare. Questo va bene, fai quello che vuoi. Oh, c'è un altro jungle. Ma... No, non l'avevo vista. È entrata appena ho lanciato il C4. Cioè io ho lanciato il C4 e l'ho entrato. Lui già sapeva che ho lanciato il C4. Prego, cazzo mio. Porco Dio. Proteggete il contenitore. Vedete al nemico di prendere il contenitore. No. Sventate ulteriori accessi a cui... Bo. Metta non l'ha vista. Mono, se uno ti buscia, tu che cazzo gli racconti? Un operatore alleato rimasto. Ah, bella la storia. Missione fallita. Difensori uccisi. Ok. Vabbè, quindi c'è il VAR. Cioè, noi potremmo vincere tutte. Questa magari è un po' più combattuta. La perdiamo. Cioè. No, non ce li ho per due. Decidi tu quale... Tanto di... Sicuro fai più dei due kill. E se i due kill sono bellissime. Quindi io per quei... Guarda. Solo due. Sempre i più due. Sempre i due più... Che ci sono tipo un 360. Dovete trovare il contenitore di bio-rischio. Senza morire. Che sennò io non c'ho più... Un capo team. È un miglior amico. Sennò senza morire perché si fa... Un me mori ora. Sei giovane ancora. Aia. Aia. Scappa. 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 Aia. La boomata. Una impanata. Ho paura che mi censura nel video. Raggiungetelo. Raggiungetelo. a chi mi darò attività nemica neutralizzate la minaccia lasciate perdere io l'ho promuta però troppo tardi ok va bene ma tu mi spieghi dove cazzo sta giocalo per me guarda giocalo che cazzo fa giocale conti da quando vedo sti steve termine al bianco che la prosta che la prosta che la prosta la prosta che la prosta ma se ti vuole pushy no eh dimenticatevi del contenitore sinistro attaccante neutralizzato io mi ho cosa che schifo le cusche c'ho pure la febbre italiano, inglese e spagnolo richiesta amico invia io ho inviato ce l'ho amicizia richiesta amico dormitario prendiamo il solito lui no cazzo vuoi sempre i due chi no ce l'ha con la pippa di merda qui però cioè non ho mai preso nuovi schif- cioè la mia ragazza si è fitta ora al mio canale muro rinforzato un drone ha chiarato uno qui e una sulla scallo mancano dieci secondi mute ha messo due mute c'è veramente quanto 5 secondi guarda uno qua uno qua ok il nemico non ha trovato il contenitore cercheranno di localizzarlo durante l'assalto dai fai intempo dai fai intempo dai fai intempo stronzo gladio dai carico il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona il nemico ha visto il contenitore di biorischio dai dalla finezza all'inalto no no vai dall'altra parte dalle scale anzi la non c'è andata troppo rischia troppo rischia se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà forse non lo so se la vuoi salvare quando vuoi eh non ti muovere ci penso io ok ricognizione barricata piazzata ricarico l'arma ultimo nemico rimasto è entrata non c'è la cosa eh sensore cardiaco in uso non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno è non c'è nessuno non c'è nessuno non l'ha vista c'è una roba, lui l'ha sparato come si è rotto, so tre ore che non lo pio è molto pio si non pare di una cazzata 8 e mezza 9 la molligia Maria ha detto che si sveglia alle 7 e mezza no no anche prima io appena ne sveglio vengo a gioco ho capito ma lo sai no ho detto oh io ti ho detto si appena mi sveglio ho detto non rompe le scatole prendo il joystick accendo la play ti chiamo togli c'è la vigile bravo pigliamo dattato vai 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 ti bega ti bega oh serve l'obiettivo attività nemica neutralizzate la minaccia no no voi fate cazzi tu ad aiutare i compagni fidete scendi giù bravo scendi giù lasciate perdere il contenitore si t'ha visto c'è il mirino sulla destra se premevi pure un secondo si no ma questi manco sanno giustare guarda la nomada come muore smettete di difendere la stanza scendete la stanza e proteggete il contenitore bientro no 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 ok no 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 d'attacco si bravissimo madonna io ho visto quello là se tu premevi r2 l'avevi fatto pure che domani vi l'avevi ucciso cazzo io proprio prendo lui avete spiegato i 10 mamma mi metti la coca please barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio si si oddio che sta incantica ho preso tre droni è risultato li sto metto in posizio da li posso mettere ora metto qua sulle scale e moda venga da una mano e poi gli altri li metto anche il mio stinto avrebbe detto così perché perché la vita è è il muro è fatto ci stiamo salendo nell'obiettivo quindi quelli che rimaniamo alla fine cosa stradone bandaglia un faccio poco male che faccia a occhio a granata a ferimento 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 non hanno spacco quando spacco quadrino di spaca io apro qua Oh Prendete il contenitore di biorischio in pausa Pensate al nemico Hanno rinunciato ad appropriarsi le contenitore Ultimo attaccante rimasto in vita Proteggete il contenitore di biorischio in pausa Mancano dieci secondi Fermo Ancora cinque secondi No, due l'ho fatta io Due l'ho fatta io Io la me da Ah, sì, l'ho fatta scaletta Otto diviso due Quattro, quattro diviso due Due, due, due No, ancora non è tutto da vedere Ma che l'ho parlato Allora, l'R1 Cristian Esiste Siamo troppo forti Caccola, appena stai andando Ho detto Ti stava di Mo io vado Ma perché con la guild dc4 Cazzo Do la messa Inserimento tra dieci Vabbè, non parliamo Non parliamo Cinque secondi all'inserimento E vi è No, sono spostati La collista Non c'è Ma dico io Trovatelo E ormai Spernate da qua Vedo da questa parte Nuovo caricatore Oh Grazie Giaco L'ho aiutato Blitzer Laggiù Eh, sei Blitzer Vabbè, sta afforminato Sai Aspetta, fammi ricarica Lo buscio? No, no No Non è ne ho headshot Non è ne ho headshot C'è l'ho attato io L'ho attato tu Dopo il to Se vuoi lì tu Di nuovo io E' da morto Eh, io metto paura Vedi che Tu ci dice Cambio caricatore Un operatore alleato Rimatto La gli entra Cazzo Così Guarda Io Non ti vorrei Comandare Ma io Scapperei No Guarda Il preferito Il giocatore Adatto Questo è italiano Chat nel party Mi lo invito Nel party Te l'ho suggerito Qui Inviame Bella Bella Ciao 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 Ok, ciao 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 Beh ragazzi Ciao, bella